Al comando delle operazioni Nick De Fiori, su OKB, poi Lester Pigott, insiste proprio OKB su Nick De Fiori, rientra, Nick De Fiori, OKB che sistema la corda, poi Lester Pigott che rimane in terza, Matilde Re chiude Odette da Asolo. Prende in mano la situazione salvo da Luisi con Nick De Fiori e quindi gestisce il vantaggio, si scopre in maniera piuttosto comoda Lester Pigott, dovrebbe esserci il disco verde, infatti dopo quasi 500 metri gara passa al comando il numero 3 di Lester Pigott favorito su Nick De Fiori, poi OKB, ancora il 5 di Matilde Re. Chiude il sette di Odette da Asolo. Controlla la situazione in avanti, sempre il Sauro, Lester Pigott, Nick De Fiori che viaggia dietro, poi OKB, poi c'è Matilde di Re e Odette da Asolo. Pensa di venire via, nata la cintura con Matilde di Re. Lester Pigott può iniziare a sveltire l'andatura, Matilde di Re che ora prova l'aggancio in avanti proprio su Lester Pigott. Quindi Nick De Fiori, ancora Matilde di Re, Matilde di Re che ora deve vedersela con Nick De Fiori. Lester Pigott che intanto prende vantaggio da Nick De Fiori. Ancora Matilde di Re che intensifica l'azione a largo. Lester Pigott, Lester Pigott che prova a scarpare via. Per il momento ha preso una lunghezza nei confronti di Nick De Fiori e Matilde di Re che continua a largo. Lester Pigott che accelera di botto. Sembra discorso chiuso per quanto riguarda la vittoria perché Lester Pigott chiude la partita ed è trisse per Viaggio Lo Verde. Vince anche questa. Lester Pigott seconda il numero 5 di Matilde di Re. Terzo il numero 2 di Nick De Fiori. Lester Pigott vince molto molto bene. Al secondo posto il 5 di Matilde, al terzo il numero 2 di Nick De Fiori.